Un saggio di Carlo Verde e Sara Cucciolito, presentato a Palazzo San Giacomo, racconta il monumento alle quattro giornate di Napoli, collocato in Piazza della Repubblica. Il presidente Moro, quando venne a porre la prima pietra per il monumento alle quattro giornate, ci tenne a precisare che praticamente questo monumento ricordava le quattro giornate di Napoli, che erano state l'apertura, possiamo dire, l'avvio della resistenza italiana. Poi nel corso degli anni, purtroppo, man mano anche per rientrare in un certo contesto storico, il monumento alle quattro giornate è diventato il monumento allo scugnizzo, perché bisognava in un qualche modo ridimensionare la storia di questa città. L'opera, realizzata nel 1963 da Marino Mazzacurati, celebra la ribellione popolare dei cittadini napoletani all'occupazione nazifascista. Il monumento alle quattro giornate di Marino Mazzacurati, che è tornato da qualche mese, diciamo, da poco più di un anno a campeggiare in Piazza della Repubblica e che segna con la qualità tipica di uno dei maggiori scultori del secolo scorso, consente di ricordare appunto un pezzo importante e decisivo nella nostra storia. Un libro importante anche perché è un libro curato e voluto dall'AMPI, dall'Associazione Nazionale Partigiani, ed è quindi un segnale, soprattutto in questa fase storica, di grande rilievo per ricordare i valori intramontabili della resistenza. Il monumento rappresenta la resistenza napoletana, una resistenza che è stata collettiva e che ha portato la vittoria e la liberazione di Napoli, la prima città ad essersi liberata da sola dal nazifascismo. Marino Mazzacurati è lo scultore della resistenza, per lui questo non fu solo un tema occasionale, ma Marino Mazzacurati è stato praticamente un artista e nello stesso tempo anche un partigiano.